Se la stampante in uso non preleva o non alimenta la carta, potreste ricevere un messaggio Aggiungi carta anche quando la carta è caricata. Per risolvere il problema, procedere come indicato di seguito. Della carta di qualità scadente può causare dei problemi nell'alimentazione della carta. Munitevi di una torcia per questo passaggio. Spegnere la stampante. Prendere il cursore sul vassoio 2 e tirarlo verso di sé. Far scorrere il vassoio 2 completamente fuori dalla stampante. Rimuovere tutta la carta dal vassoio. Rimuovere la carta strappata, piegata o rovinata. Guardare dentro lo slot del vassoio 1 di alimentazione e in quello del vassoio 2 di alimentazione. Usare la torcia per controllare che non ci siano ostruzioni nei percorsi carta. Far scorrere le guide della larghezza e lunghezza della carta verso l'esterno. Caricare la risma di carta nel vassoio 2. Far scorrere le guide della larghezza e lunghezza della carta fino a farle aderire alla risma di carta. Non spingere troppo le guide per evitare di piegare la carta. Usare le guide per assicurarsi che la carta non sia troppa. Reinserire il vassoio 2 nella stampante. Accendere la stampante. Riprovare a stampare. Se l'errore persiste, andare al passaggio successivo. Regolare le impostazioni del vassoio di alimentazione per selezionare il formato carta caricato nella stampante ed eliminare il messaggio di errore carta esaurita. Sul pannello di controllo della stampante, toccare Impostazioni, quindi toccare l'icona di configurazione di sistema. Toccare Configurazione carta, quindi vassoio 2. Toccare Tipo carta, quindi selezionare il tipo di carta in uso nel vassoio 2. Toccare Formato carta, quindi selezionare il formato di carta in uso. Riprovare a stampare. Se l'errore persiste, andare al passaggio successivo. Stampare una pagina di pulizia per ripulire l'alimentazione della carta e i rulli di prelievo carta nella stampante. Sul pannello di controllo della stampante, toccare Impostazioni. Poi toccare Servizio. Infine toccare Pagina di pulizia. Caricare un foglio di carta comune nel vassoio 1. Toccare OK. La pagina di pulizia viene stampata. Riprovare a stampare. Se l'errore persiste, andare al passaggio successivo. Reimpostare la stampante potrebbe eliminare gli errori di mancata alimentazione carta. Verificare che la stampante sia accesa. Ruotare la stampante. Scollegare il cavo di alimentazione. Scollegare il cavo di alimentazione da eventuali prese multiple o suppressori di sovratensioni. Attendere almeno 60 secondi. Inserire il cavo di alimentazione direttamente in una presa a muro. Ricollegare l'altra estremità del cavo di alimentazione al retro della stampante. Ruotare la stampante. La stampante si accende automaticamente. In caso contrario, premere il pulsante di accensione. Riprovare a stampare. Se l'errore persiste, andare al passaggio successivo. Se dopo aver completato tutti i passaggi descritti in questo video il problema persiste, potrebbe essere necessario rivolgersi al servizio di assistenza tecnica. Le opzioni di assistenza variano a seconda della data di acquisto della stampante e del paese in cui si vive. Contattare HP per informazioni sulle opzioni di assistenza disponibili per la stampante in uso.